johnson perché diciamo johnson perché diciamo il cognome del diciamo del del marito il marito in twin pics appunto leo johnson il violentissimo diciamo così leo johnson e poi vabbè non dico non dico aggiungo altro perché perché appunto poi bello johnson e poi diciamo la la storia bellissima hobby briggs ma aggiungo altro perché poi insomma se qualcuno ovviamente non ha mai visto twin pics poi vederà solo quindi è brutto già anticipare come si dice oggi spoilerare